Devo chiudere il sipario? Devo fare il buio? Mica è qui il punto. Io però non ce l'ho assegnato qui. Devo assegnarlo? Il cambio costume è quello rapido e dopo? Mica ora? Cioè, siamo solo alla prima scena, del primo atto e già ci sono gli intotti. Studenti che diventano attori e portano in scena veri e propri spettacoli. Un anno di teatro per le scuole, quello firmato da noi delle Scarpe Diverse, associazione culturale e aretina impegnate in una serie di progetti didattici e laboratori nelle scuole che nell'ultimo anno scolastico hanno coinvolto circa 1500 studenti. Sarà tutta la scuola? Che storia forte! Io non ci vengo. Recita anche quella che piace a te? Ma chi? Quella alta così? Sì! Quella con i capelli così? Sì! Allora ci vengo! Tra gli appuntamenti la rassegna il classico in scena, inserita nel festival per le scuole e messaggi della rete teatrale aretina che ha portato sul palco del teatro Pietro Aretino tre spettacoli scritti da Samuele Boncompagni. I ragazzi sono bravissimi, li sono messi in gioco, sono tre gruppi che praticamente formano 60 ragazzi in totale, quindi siamo veramente contenti, è una soddisfazione. Primo appuntamento con la commedia Goldoni sei meno o meno. Metto in scena questo Goldoni molto particolare nel quale succederanno molte vicissitudini, verranno ostacolati da una serie di ragazzi un po' più secchioncelli che cercano di sabotare il laboratorio teatrale, insomma è una cosa molto particolare. Con fratelli di banco, abbiamo poco tempo. Oggi è una soluzione? Totale! Definitiva! Manca una settimana! Ragazzi, ritiriamoci e meditiamo su da farti. Ritiriamoci, ritiriamoci. Che si fa? Ritirati! Che? Esci! Ah, buon sono a tutti! Bonsola! La rassegna è stata anche l'occasione per festeggiare la conclusione del trentesimo anno di laboratori proposti dall'associazione all'interno del liceo Petrarca.